Buongiorno, eccoci qua per le nostre pillole settimanali. Le chiameremo pillole perché come le medicine, come le pillole delle medicine, non risolvono il problema ma possono alleviare il dolore e farci sentire meglio. Il nostro scopo è sicuramente questo, quello di farci sentire meglio. Questa settimana è in dubbio che dobbiamo parlare della relazione CNEL sui servizi pubblici italiani ed in particolare su quello che è la sanità, perché c'è stata una fortissima critica da parte del CNEL sul Servizio Sanitario Nazionale e vi vado a leggere direttamente quella che è la sintesi della relazione per quanto riguarda il capitolo sanità. Emblematico è il caso della sanità, dove la spesa pubblica, benché in risalita a partire dal 2020, è ancora tra le più basse d'Europa, 75,6% del totale, mentre la spesa privata dei cittadini è in continua crescita ed è un più 5% solo nell'ultimo anno, a fronte di liste d'attesa per l'accesso ai servizi spesso insostenibili e contrari al principio della proprietezza. Di conseguenza si estende il fenomeno della rinuncia alle cure necessarie per problemi economici ed organizzativi, che ha raggiunto nel 2023 il valore del 7,6% della popolazione e cresce anche la realtà dell'impoverimento determinato da cause legate alla salute, che tocca l'1,6% delle famiglie. È una sintesi molto grave naturalmente che determina un deterioramento di quello che era uno dei pilastri del nostro Paese, cioè il Servizio Sanitario Nazionale, quello che era stato classificato come il secondo servizio sanitario nazionale al mondo per qualità e per efficienza e che oggi evidentemente non lo è più. Ma vediamo perché, come si è determinata la situazione visualizzata nella relazione sui servizi pubblici per la sanità. Cerchiamo di capire come ci siamo arrivati, come siamo da un capitolo che è assolutamente necessario ricordare, cioè la spending review. Che cosa ha fatto la spending review? La spending review ha fatto tante cose e soprattutto perché c'è stata la spending review? C'è stata la spending review perché negli accordi d'Europa precedenti tutti quanti gli stati europei si sono impegnati a risparmiare sui servizi pubblici, sulla spesa per i servizi pubblici un 20%. Questo naturalmente ha determinato una serie di tagli. Fra questi tagli ci sono sicuramente quelli della sanità che hanno riguardato il taglio dei posti letto naturalmente con 32 mila posti letto da tagliare e 120 piccoli ospedali che sono stati naturalmente chiusi. Certo erano piccoli ospedali che non erano molto efficienti, in cui l'efficacia non era il massimo, ma presidiavano un territorio che da allora non è mai più stato presidiato nella stessa maniera. Partiamo sempre dalla relazione del CNEL e dall'assunto che ci sono pochi investimenti per tornare a quelle che sono le cause del perché siamo arrivati a questo. In Italia c'è un invecchiamento della popolazione che è inesorabile e inevitabile evidentemente e questo ha portato i grandi soloni della sanità, i grandi professori, i grandi direttori a dire che non serviva più una rete territoriale dell'emergenza fatta come quella che c'era prima, ma serviva una rete territoriale fatta di visite a domicilio e di cure a domicilio per la popolazione anziana. Questo in parte è vero, ma chi ha messo in campo questo assunto e lo ha totalizzato, si è dimenticato che l'Italia è una nazione a vocazione turistica in cui il numero dei soggetti che per turismo viaggiano in Italia e che hanno incidenti, piccoli incidenti, che hanno malori e via di seguito è ancora molto forte e questi hanno come presidio solo ed esclusivamente gli ospedali, non essendo in possesso evidentemente di nessun medico di famiglia in questo paese. E quindi questo è sbagliato, perché? Perché ha depauperato una rete dell'emergenza che c'era senza sostituirla e questo ha portato ad un paese molto meno efficiente, ma soprattutto a una diminuzione di circa 24 mila soggetti nella sanità che non abbiamo più recuperato. Perché? Perché il lavoro si è spostato dai piccoli ospedali ai grandi ospedali che si sono ritravati intasati. Partiamo sempre dalla relazione Cner sui servizi pubblici e da come sta messa la sanità per dire che chi guida la sanità oggi si è già dimenticato di cosa vuol dire avere a che fare con una pandemia. Perché? Perché la pandemia è stata la dimostrazione plastica del fatto che il nostro territorio, il territorio italiano, non è tutto presidiato, nel senso che è presidiato nei capoluoghi di provincia, ma è assolutamente abbandonato al medico di famiglia, il quale non ha certamente bacchette magiche e forse neanche la voglia di sostituire l'intero sistema del servizio sanitario nazionale e questo si è visto in modo determinante e assolutamente inevitabilmente visibile dentro gli ospedali nel periodo della pandemia. Laddove il personale ha dovuto fare i conti con mancanza di presidi all'inizio, con direttive non chiare, con l'incapacità dei direttori sanitari di creare soluzioni adeguate all'emergenza grandissima che la pandemia ha costituito. Partiamo sempre dalla relazione sui servizi pubblici e sulle critiche alla sanità e sul fatto che il nostro sistema sanitario scoppia. Perché scoppia? E soprattutto perché i cittadini ne hanno un sentore chiaro, netto e preciso, perché l'indice, la spia di questa sanità che scoppia sono i pronti soccorsi, i quali ovviamente non avendo più una rete territoriale, una cintura che filtri i casi meno gravi, si ritrova a sopperire a tutta un'intera provincia con tutto quello che è il disagio che questo può sopportare. Quindi i cittadini si devono sobbarcare 50-100 chilometri a seconda di dove abitano per arrivare al primo pronto soccorso e quando arrivano al primo pronto soccorso debbono attendere ore per risolvere, se possono risolvere il loro problema. E perché questo accade? Beh, fondamentalmente per un'incapacità organizzativa dei direttori generali e dei loro direttori sanitari. Secondo luogo perché questa incapacità organizzativa è in gran parte determinata da un accordo Stato-Regioni del primo agosto del 2019. Siamo sempre sulla relazione CNEL dei servizi pubblici e sulle critiche alla sanità per spiegare a questo punto, visto che lo abbiamo additato come il responsabile degli ingolfamenti del pronto soccorso, per spiegare che cos'è l'accordo del primo agosto 2019 e perché è sbagliato soprattutto. Diciamo che è sbagliato perché è stato preso prima della pandemia che ha dimostrato tutta una serie di cose che poi andremo a dire, ma è anche sbagliato per una serie di ragioni organizzative che naturalmente adesso andiamo a spiegare. Che cos'è l'accordo? L'accordo è l'accordo sancito sui documenti, linee guida di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, linee di indirizzo nazionali sull'osservazione breve e intensiva e linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso. Ora, dopo aver cancellato gli ospedali si sono accorti che i pronti soccorsi nel 2019 si sono accorti che i pronti soccorsi degli ospedali provinciali, degli ospedali principali di un'azienda sanitaria provinciale, come sono arrivate a essere le aziende sanitarie del nostro sistema, naturalmente venivano presi d'assalto. Ed è normale che sia così, lo abbiamo detto in varie pillole precedenti. Ed è stata introdotta queste linee guida. Ora, queste linee guida che cosa fanno, che cosa determinano nel concreto? Il triage non cambia niente, c'era prima, è stato semplicemente definito in modo che sia fatto uguale su tutto il territorio nazionale. Ma le linee su lobby, lobby non c'era. Lobby non c'era perché il pronto soccorso era uno filtro in cui il cittadino arrivava, se aveva cose non gravi, bianco, verde, codice bianco, codice verde, veniva visto, velocemente fatto un primo intervento e rispedito al medico di famiglia. I codici gialli, rossi, naturalmente, venivano trattati per quanto era possibile in via ambulatoriale, per quanto non possibile venivano spedite al ricovero. E i ricoveri che seguiva erano ricoveri brevi o ricoveri lunghi, a seconda della necessità di osservazione, medicina all'urgenza, o di ricoveri più prolungati alle parti tipo ortopedia, chirurgia, pneumologia e via di seguito. Questo ovviamente non avviene più, perché? Perché è venuta meno la medicina all'urgenza di fatto. E tutti i letti che erano decenti, ospedalizzati, fatti bene, presidiati da personale, oggi non ci sono più e sono finiti. Nel lobby, cioè una sorta di cronicario a ridosso del pronto soccorso, dove lo stesso personale che deve fare da filtro e che deve intervenire velocemente post-triage, naturalmente si trova anche a dover osservare coloro che sono ricoverati in lobby, cioè nell'osservazione breve. Questo dovrebbe essere per evitare i ricoveri e quindi risparmiare sulle spese di ricovero, perché i ricoveri lo sappiamo costano, però in realtà risparmia sui pasti, però con l'effetto di mettere i cittadini in una sorta di cronicario, ricoverarli su delle barelle che non sono dei letti veri e propri, in spazi che sono divisi da delle tende, con dei bagni assolutamente insufficienti per il numero di persone che ci sono in quella situazione e con del personale che è già affannato a seguire le urgenze che continuano ad arrivare in pronto soccorso, che deve ogni tot vedere di loro, fargli qualche prelievo, inviarli in radiologia, inviarli alle visite, chiamare le visite specialistiche e osservarli per le 6-8 ore successive, con il risultato che chi è in hobby farà gli esami all'ingresso, farà gli esami a metà del suo percorso dopo 3-4 ore e li farà di nuovo alla fine per vedere se è dimettibile o se deve essere effettivamente poi ricoverato ancora. Un pateracchio assolutamente inaccettabile che la pandemia ha dimostrato di essere assolutamente inefficiente e inefficace. Noi nel 2020 abbiamo dato un decalogo al Parlamento, al Governo, un nostro decalogo ovviamente, con alcune soluzioni e abbiamo detto che naturalmente la rete dell'emergenza non poteva venire a meno e non poteva venire a meno per tante ragioni, ma la prima è che l'Italia è un paese a vocazione turistica e quindi molte delle nostre regioni, molte delle nostre città in una stagione hanno un certo numero di abitanti e quindi possono far fede ad una eventuale rete territoriale che si sta mettendo in piedi con le case della salute e gli altri presidi territoriali, ma per quanto riguarda il discorso del turismo naturalmente noi non possiamo che far fronte con degli ospedali e quindi anche dei piccoli ospedali, per quanto riguarda il circuito dell'emergenza, debbono essere rimessi in circuito. Mi fermo qua su questo e passo sicuramente alla seconda pillola, al secondo argomento e il secondo argomento sono le aggressioni del personale.